E con giustizia subito, è lo striscione che ieri mattina hanno esposto gli attivisti di Lega Ambiente per chiedere che venga fatta immediatamente chiarezza sull'emergenza ambientale che dalla scorsa primavera interessa tutto il martirreno a causa della dispersione di dischetti in plastica fu riusciti dal depuratore di capaccio Pestum. Proprio sulla spiaggia nei pressi della foce del Sele, da dove i dischi di plastica si sono riversati in mare, circa 50 volontari di Lega Ambiente hanno inscenato una protesta per non abbassare l'attenzione sulla vicenda. Un blitz realizzato in contemporanea con il passaggio lungo la costa di Goletta Verde, la campagna di Lega Ambiente che in questi giorni sta facendo tappa in campagna. E dall'imbarcazione, al momento dell'arrivo nei pressi di Pestum, l'equipaggio ha essato lo striscione che vergogna. Le ultime segnalazioni giunte a Clean Sea Life confermano la presenza dei dischetti a Seté, in Francia, a 200 km dalla costa spagnola e in Sicilia, a Ustica e Milazzo.